La storia è ricca di fascino, la scena ci riporta al mondo delle fiabe, a quell'essere bambini di avvero o comunque sentirsi tali, indipendentemente dall'età. Di certo, la bella e la bestia, oltre all'apparenza, è uno spettacolo accattivante che ovunque, anche oltre i confini regionali, ha fatto sold out e in qualche caso è stato necessario aggiungere anche delle repliche extra, a grande richiesta. Da domani a domenica, i protagonisti del musical prodotto dall'associazione culturale Overture saranno sul palco del Teatro Savoia di Campobasso. Sette spettacoli in quattro giorni con un doppio appuntamento, mattinè per i ragazzi delle scuole e salare per le famiglie non solo, fino a sabato. È un'emozione unica a recitare in questo teatro, hanno detto i protagonisti nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, svolta nel foyer del Savoia in una pausa degli allestimenti. L'emozione è fortissima, da Molisano lo dico, senza forte campanilismo. Poi stiamo nella piazza, comunque adiacente, al centro di potere dell'intelligenza dell'Ottocento. Siamo felicissimi di essere in un teatro all'italiano di queste fattezze, perché veramente orgogliosi. Poi siamo veramente pronti e carichi. Dopo un anno e mezzo di prova, il nuovo casting, le nuove prove, le dieci repliche già fatte, adesso credo che il vino è buono. Io credo che sia veramente buono. Belle è sicuramente un personaggio abbastanza particolare, perché è una ragazza, la storia racconta di circa 20-25 anni, è una ragazza sognatrice, molto coraggiosa, che quindi vive in questo paesino che non ha, ma non è quello che lei vorrebbe, perché lei sogna qualcosa di più grande della normalità. E quindi l'incontro con questa bestia principe, che le scopre solo sul finale, le fa, le dà la possibilità quindi di realizzare i suoi sogni, quindi realmente. Le emozioni sono tante, sono grandi e grande è la responsabilità, a fronte anche di un lungo percorso di allestimento di questo spettacolo, nonostante siamo già alla decima replica. Ma la cosa straordinaria del teatro è che ogni spazio teatrale, ogni città, ogni paese, regala un'emozione diversa. Per questo la responsabilità è grande ed anche la gioia, per la risposta che stiamo avendo anche da questa città e dalla regione tutta. Adesso tra poco tocca a noi ripagare questa gioia, questa accoglienza, con tutto quello che abbiamo, con sacrificio gioioso appunto, imparato in questo anno di allestimento, per poter, insomma, un po', mi ripeto, ripagare questa accoglienza straordinaria e anche questa cornice, che è una cornice, insomma, artisticamente bella di suo, ma che rappresenta questa regione.